Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano Oggi parliamo insieme delle migliori applicazioni per Android che sono riuscito a racimolare sul Google Play Store nell'ultimo mese Questa volta non saranno 10 applicazioni ma saranno soltanto 5 proprio perché comunque, come già vi anticipai nello scorso video sulle migliori app per Android diciamo che la situazione si sta un po' appiattendo e diviene sempre più difficile trovare app interessanti Come sempre non voglio proporvi spazzatura Quindi non preghiamoci in chiacchiere, partiamo subito con la prima applicazione per Android Queste 5 app sono tutte gratuite e le troverete linkate ovviamente come al solito qui in descrizione La prima applicazione per Android che andiamo a recensire insieme quest'oggi parla di personalizzazione Parliamo di AMOLED Wall-E ed è un'applicazione che ci permette di scambiare personalmente quello che è il nostro sfondo smartphone Ovviamente però ce ne sono tante sul Play Store che meritano una recensione perché ho scelto proprio questa Ogni giorno esce praticamente uno smartphone nuovo ormai non si sta più dietro all'avanzare tecnologico ma la maggior parte di questi smartphone hanno uno schermo AMOLED Come molti di voi sapranno lo schermo AMOLED a pixel scuro risulta essere completamente spento quindi risparmiando di conseguenza notevoli quantità di batteria soprattutto se usiamo molto il nostro smartphone Android Di conseguenza che cosa ha di particolare quest'app? Quest'app ha di particolare il fatto che presenta soltanto sfondi con il colore dominante ovviamente scuro di conseguenza nero e quindi adatto agli schermi AMOLED Ovviamente quello che vedete nella mia destra è uno sfondo preso dall'applicazione in questione poi andando a vedere più nello specifico che sfondi troviamo nelle app Io non sono andato nelle categorie che troverete in alto a sinistra come al solito all'interno delle impostazioni app ma scorrendo qui in giù praticamente verso il basso e andando quindi a guardare quelli che sono tutti gli sfondi disponibili ce ne sono un'enorme varietà e la cosa fondamentale è che sono tutti in altissima definizione con color predominante nero e di conseguenza che ci consente di risparmiare notevoli quantità di batteria che vanno dal 5 al 15% La seconda applicazione di cui andiamo a parlare adesso invece è un'applicazione di acquisti è un'app che è uscita non molto tempo fa sul Play Store e che sta usando tantissimo il mio collega Andrea Galeazzi che non conosco ma che mi piacerebbe conoscere e in ogni caso stiamo parlando di Pagomino Pagomino è un'app gratuita sul Play Store tramite la quale possiamo andare a cercare nello specifico tutto quello che è presente online e che possiamo andare ad acquistare scrivendo ad esempio siamo su un Galaxy Note 8 la peculiarità di quest'app è che non ci presenta uno store o un sito ufficiale nello specifico ma fa un paragone alias booking tra mille negozi presentandoci quelli più convenienti una volta scelto quello che per lui è il prezzo più conveniente ed il più basso che ha trovato sul web noi possiamo andare a cliccare sul link che ci dà a disposizione e ci apre delle sottocategorie che praticamente vengono presentate a seconda dei tipi di negozi che si trovano in quella fascia di prezzo e ovviamente siamo garantiti dal fatto che Pagomino fa anche una scrematura di tutte quelle app o quei siti fake che vendono cose a bassissimo prezzo la terza applicazione è Launchboard va scaricata sul Google Play Store in maniera gratuita dopodiché una volta scaricata andate ad inserire il widget che si aprirà con Launchboard sulla scremata home questo widget ha la particolarità che lo fa entrare praticamente nella lista delle 5 migliori app di oggi e che praticamente una volta cliccato sulla lettera che ci interessa ad esempio non so P ci darà tutte le applicazioni del nostro telefono che iniziano per P un'applicazione davvero quindi intuitiva semplice e ultra veloce che ci consente di arrivare all'applicazione di interesse senza fare mille giri o perdere quel minuto a cercarla ovviamente non è fine soltanto la ricerca di app possiamo cercare anche tra i contatti o soltanto nei contatti a seconda delle nostre preferenze o anche tutte e due e la cosa fondamentale è il fatto che essa sia veloce e cerca all'istante non consuma batteria rapida intuitiva e non dà neanche molto fastidio sulla scremata home essendo il widget abbastanza piccolo e contenuto la quarta e penultima applicazione è MoShow è un'applicazione che praticamente si scarica dal pressore in maniera gratuita e ci consente di andare ad aggiungere effetti cinema alle nostre fotografie in maniera istantanea possiamo selezionare dalla 1 a 20 fotografie 50 fotografie non c'è un limite massimo in realtà e la cosa fondamentale è il fatto che anche con una sola foto il tutto risulta molto fluido e performante infatti cosa possiamo fare? possiamo andare ad inserire una serie di filtri e quindi effetti cinema preimpostati dall'app stessa possiamo aggiungere musica o togliere musica cosa molto caratteristica e principale di quest'app è il fatto che la musica ci viene fornita a seconda delle tendenze del momento e quindi è sempre aggiornata ovviamente possiamo anche aggiungere musica a nostro piacimento dalla galleria del nostro smartphone musicale ovviamente e quindi è un'app molto semplice e intuitiva una volta salvata e rendrizzata quella che è il nostro lavoro possiamo salvarlo direttamente dal nostro smartphone o condividerlo sui vari social anche su Instagram ad esempio viene fornito come una mini clip molto molto interessante ultima ma non meno importante applicazione del Play Store che andiamo a recensire oggi è sempre in campo fotografico e si chiama Salt Salt è un'app intuitiva semplicissima e molto breve da utilizzare nello specifico perché la prima volta che la andiamo ad attivare ci consente di inserire nella opzione logo una foto che magari possiamo andare poi a logare sulle nostre fotografie da social esempio io ho messo la foto di Guido Tramontano che è praticamente l'immagine anche del canale quella immagine sarà il logo di tutte le altre fotografie che voglio andare a inserire e pubblicare sui vari social molto interessante per chi ad esempio può creare anche fotografie o immagini paint adobe o quant'altro col proprio nome e cognome e può quindi firmare di conseguenza tutte le foto che va a pubblicare sui vari social davvero molto interessante intuitiva è semplicissima e che ci consente di conseguenza ogni qualvolta lanciamo l'app in un semplice click di inserire un logo su una fotografia bene ragazzi anche il video di oggi è giunto al termine spero che le applicazioni vi siano piaciute molte di queste sono magari da utilizzare tutti i giorni altre un po' meno ma sono comunque utili e da tenere nel proprio smartphone spero che il video quindi vi sia piaciuto lasciatemi un like se per l'appunto vi è fatto piacere seguirmi e così facendo mi seguirete ancora più ne siamo meglio è questo ci tengo tantissimo a sottolinearlo e di conseguenza ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao